Buonasera, città di Paliano, fra Iacari Luca, sono istruttore dei 2010, partecipiamo per la prima volta a questo torneo. È una bella opportunità per noi come società per portare i ragazzi in giro, comunque per portare il nome della nostra società in giro. È una bella esperienza anche per i ragazzi perché si confrontano con altre società che sono fuori dal giro dei loro campionatini provinciali e quindi sarà una bellissima esperienza per noi come società e per i bimbi come bimbi. È stato un bellissimo primo giorno con la manifestazione che ci ha reso tutti i partecipi e tutti contenti di come è stata organizzata e di come è stata programmata. Abbiamo giocato la prima partita, è andata bene, i ragazzi sono divertiti e sta andando tutto benissimo per i nostri ragazzi.